Possiamo iniziare questo incontro. Grazie ovviamente a tutti per la presenza e per la disponibilità, anche se il periodo non è dei migliori per lavorare, ma comunque qui stiamo. Ringrazio anche i componenti del Consiglio di Amministrazione, della Fondazione Universitaria e i soci presenti, anche il Collegio Sindacale. E un cordialissimo benvenuto al professor Ruggeri, rettore della Tuscia, e al professor Angeloni, che è il referente del rettore della Sapienza, per quanto riguarda le facoltà che sono presenti nel nostro territorio. Abbiamo esigenza e piacere oggi di presentare, il motivo principale per cui ci incontriamo, il nuovo corso che partirà con il prossimo anno accademico, che è il corso di laurea in Scienze della Montagna, che però farò illustrare e presentare direttamente dal rettore Ruggeri. È un'occasione comunque nella quale ho il dovere di sottolineare un attimino, perché indubbiamente la nostra attività universitaria comincia ad avere una storia, una storia ventennale, una storia che è fatta di impegno, molto spesso anche senza grandissima evidenza, ma che ha dato negli anni, soprattutto dopo la trasformazione del Consorzio Universitario, ha dato dei risultati evidenti, importanti, sia nel numero degli studenti che frequentano i nostri corsi, ma io direi anche nella qualità della formazione offerta. Abbiamo avuto il sostegno più o meno sofferto, naturalmente, non per volontà, ma per contingenze anche economiche, degli enti principali del territorio, del Comune, della Provincia e gli enti anche più importanti, quali l'ASI, la Camera di Commercio. Abbiamo avuto un sostegno sempre importante e costante della Fondazione Varrone e abbiamo anche dovuto affrontare, e soprattutto negli ultimi tempi, delle difficoltà legate al periodo storico, che non sto a sottolineare, ma che tutti conosciamo. Il momento di crisi, di difficoltà economica, sicuramente non ha agevolato la possibilità di implementare l'attività universitaria, sicuramente non ha consentito di creare uno sviluppo anche più caratterizzante, al quale abbiamo sempre mirato e al quale continuiamo a mirare, però prima cosa sulla quale abbiamo trovato condivisione sempre è stata quella di mantenere l'esistente, cercare di non far abbassare quella che è la qualità delle offerte formative e soprattutto anche consolidare questo progetto, che a mio parere, credo che sia anche questa una situazione condivisa, è un progetto del quale il nostro territorio non può fare a meno. L'economia della conoscenza, come la definiamo, è un'economia che non va in crisi, è un'economia sulla quale tutti dobbiamo puntare, abbiamo responsabilità di lavorare e mettere in campo tutte le risorse personali e degli enti che rappresentiamo, perché senza questo percorso il territorio soffrirà ancora di più. Non sta a me, perché non fa parte del mio carattere, io sono fondamentalmente una persona ottimista, evidenziare le grandi difficoltà che si sono emerse, soprattutto esplose con la perdita di autonomia della provincia. La provincia non ha più quella possibilità e disponibilità economica che nel tempo ci ha accompagnato come socio, uno dei tre soci fondamentali, provincia, fondazione, varrone e comune. Purtroppo la non volontà, ma la impossibilità strutturale ha fatto perdere un socio rilevantissimo. Nonostante questo, anche con l'impegno dei soci che continuano a rimanere, in particolare la fondazione e il comune, siamo riusciti a non far soffrire l'organizzazione e i bilanci della Sabina Universitas. Diamo atto alle università, direttamente nella persona del rettore Ruggeri, ma anche al professor Angeloni, della disponibilità che hanno mostrato anche nel ridurre in parte l'impegno economico nei loro confronti da parte della Sabina Universitas, cosa sulla quale noi siamo particolarmente attenti e forse anche un pochino troppo incisivi, però insomma dobbiamo svolgere questo ruolo e questa corrispondenza e questa condivisione ci ha consentito anche quest'anno di preparare un budget e un progetto assolutamente sostenibile. Abbiamo aperto le nostre attività anche ad altri impegni, ad altri settori. Non è un marginale il fatto che abbiamo fatto delle convenzioni con il mondo dell'imprenditoria, con il mondo dell'industria, mettendo a disposizione la struttura universitaria per fasi di ricerca mirate, proprio commissionate in qualche modo dalle aziende, che dovessero portare a risultati nell'ambito specifico delle singole attività produttive. E questo è indispensabile anche nel mondo dell'economia e della produzione perché senza ricerca non c'è innovazione e senza innovazione non c'è crescita e non c'è sviluppo, non c'è recupero anche economico. Questo è tutto quanto abbiamo messo in campo, oltre a tante altre componenti che non sto qui a sottolineare e forse questo è un difetto che qualche giornalista mi faceva notare. Dovremmo avere più occasioni di comunicazione di quella che è la nostra attività. Forse il fatto che noi non abbiamo una tendenza a promuovere le nostre attività è sicuramente un lato negativo che cercheremo di correggere. È opportuno e necessario che si conosca qual è il reale impegno che viene messo in campo nelle difficoltà e nelle opportunità e soprattutto sottolineare sempre l'importanza di un percorso universitario, di un progetto universitario nel nostro territorio. Io continuo a dire che tutti i responsabili hanno il dovere di mettere il progetto universitario sul podio dei progetti importanti, non voglio dire al primo posto, ma sicuramente nei primissimi posti perché se questo avverrà e si manterrà è un volano per recuperare altri ambiti nell'attività del nostro territorio, nel caratterizzarlo e nel migliorarlo. Quindi questo è lo sforzo che noi cerchiamo di portare avanti. Il corso di laurea di scienze della montagna è un esempio calzante di quello che vorremmo e che con difficoltà cerchiamo di ottenere, apportare ad essere la caratterizzazione della nostra attività universitaria. Si parla continuamente, forse anche troppo, delle potenzialità sicuramente importanti del nostro territorio. Riedi a tante potenzialità, le conosciamo tutti e le proclamiamo in ogni occasione. L'ambiente, le acque, i laghi, il territorio, la gastronomia, la montagna, la qualità dell'aria. Tutto questo è potenzialità. È tempo di metterla a regime, di renderla attuale. E questo è un esempio, a mio parere, non assolutamente marginale di questo percorso. C'è una facoltà universitaria, originalissima, che in qualche modo porti e metta a rete la struttura esistente e la scientificizzi. La renta, cioè fase di ricerca, fase di promozione culturale, secondo me è un esempio calzante di questo percorso. E quindi lo abbiamo, e diamo atto e ringraziamo ancora una volta il Rettore Ruggeri per averla voluta qui a Rieti. E quindi con questo impegno ulteriore che noi prendiamo, speriamo che possa essere anche un attimo un piccolo volano che dia un'ulteriore ripresa e una svolta a quella che sarà l'attività universitaria nel nostro territorio. Io, prima di passare la parola al Rettore Ruggeri per la presentazione del corso, vorrei che il Professor Angeroni, che è rappresentante del Rettore Gaudio della Sapienza, dicessi due parole, approfittando dell'occasione e della presenza anche degli organi di stampa. Grazie, grazie Presidente. Innanzitutto mi associo a questo augurio, verso questa iniziativa che decolla oggi, unica, e quindi auguro ai colleghi che hanno attivato, hanno voluto attivare presso questo territorio, questa iniziativa, i migliori successi da questo punto di vista. Per quanto concerne il riferimento al discorso che ha fatto appena adesso il Presidente, devo dire che come Facoltà di Medicina abbiamo rinnovato l'impegno che abbiamo tradizionalmente ormai da numerosi anni presso il polo di Rieti. Anche quest'anno, seppure con certa difficoltà legata al fatto che il Ministero ha previsto un numero minore di studenti che possano essere formati nell'ambito delle professioni sanitari, abbiamo mantenuto aperto i diversi corsi che abbiamo qui presso il polo di Rieti. In qualche modo la riduzione ministeriale è una riduzione che è dettata dalla possibilità di poter entrare nel mondo del lavoro, quindi se il numero di posti disponibili si riduce, si riduce anche il numero di studenti da formare. Questo tutto sommato, se vogliamo, è una sorta di garanzia che a distanza di un anno ancora, dal momento in cui si laurano i ragazzi nelle professioni sanitarie possono trovare una possibilità di lavoro legata a quello per cui si sono formati. E accanto a questo devo dire che finalmente nel corso dell'ultimo anno è partito l'inizio del progetto di clinicizzazione dell'ospedale, per cui l'obiettivo è chiaramente tenendo conto di quella che è la situazione della regione Lazio in termini di problematiche economiche, soprattutto legate al mondo della salute, come sapete c'è una progressiva riduzione del numero di ospedali o di strutture o di reparti di alcuni ospedali. Di recente, per esempio, cito soltanto il fatto che il centro nascita di Monte Rotondo è stato chiuso e per cui è stato allocato all'ospedale di Tivoli, oppure lo stesso è stato fatto per Colleferro, il centro nascita di Colleferro è stato allocato all'ospedale di Palestrina. Cioè, in una fase di riaccorpamento delle attività ospedaliere sul territorio, conseguenza dei tagli necessari dal punto di vista della sanità. L'obiettivo che cerchiamo con l'auspicio, veramente con uno sforzo anche da parte della Direzione Generale dell'Ospedale di Rieti, è quello di invece coniugare la presenza dei corsi di laurea dell'area medica presso il polo di Rieti con qualche progetto che porti a una clinicizzazione parziale della struttura ospedaliere in modo tale da poter implementare con le forze dei docenti che provengono già da Sapienza poterli coinvolgere anche sull'attività assistenziale qui a Rieti. Questo progetto ha preso fortemente volute in cui garanti in qualche modo o se volete il punto di contatto rappresentato dalla Sabina Universitas ha formalmente preso l'inizio quest'anno con la prima attivazione di una fase di clinicizzazione che è l'inizio verosimilmente di altre attività mirate che possono essere di interesse presso l'Ospedale di Rieti. Quindi rinnoviamo il nostro impegno qui a Rieti, cosa che facciamo da numerosi anni siamo consapevoli delle difficoltà economiche che ha appena descritto, contingenti che ha appena descritto il presidente Chiarinelli auspichiamo che le strutture locali possano la cittadinanza si renda conto dello sforzo che stiamo facendo in modo congiunto con gli amici della Sabina Universitas con i colleghi di Ingegneria, con i colleghi della Tuscia è auspicabile che anche la sede che attualmente abbiamo che è allocata presso la struttura industriale dignitosa ma come se volete un po' fuori rispetto al centro cittadino possa trovare una sua collocazione all'interno della città in modo tale da avere piena visibilità di questa massa di ragazzi che quotidianamente seguono le lezioni e che si recano presso quel polo per poter studiare, approfondire e svolgere anche attività di ricerca avendo attivato dei laboratori presso quella struttura quindi l'obiettivo, l'auspicio è quello di rimanere ben radicati su questo territorio cercare di implementare e mettere a fattore comune le forze che può mettere la struttura accademica con le esigenze del territorio stesso e per quanto concerne questo è l'indicazione che mi è venuta dal professor Gaudio che ho visto l'altro giorno e che mi pregava di portare i suoi saluti nonché ai colleghi della Tuscia stessa augurando ogni bene per questa iniziativa che va a iniziare in questo momento Doveva essere presente anche il professor Zappa che è il responsabile del corso di ingegneria sempre con la Sapienza purtroppo non è riuscito ad arrivare in tempo comunque anche la facoltà di ingegneria è una delle facoltà che ci dà soddisfazione sia per il numero di iscritti offre anche una laurea magistrale sia anche per la qualità della prestazione formativa sta raccogliendo iscrizioni da territori limitrofi anche importanti purtroppo qualche Ateneo che soffre per motivi ovviamente non organizzativi parlo dell'Aquila in particolare il mondo che prima si rivolgeva esclusivamente all'Università dell'Aquila per la facoltà di ingegneria sta prestando molta attenzione al nostro corso di laurea un saluto particolare prima di dare la parola al Rettore Ruggeri al professor Dovidio che è il presidente del DAPT e al professor Schirone che non vedo che sarà il presidente del corso naturalmente la loro presenza non è una presenza nuova in particolare il professor Schirone è uno storico professore della nostra Sabina Universitas della Tuscia che ha portato avanti sempre con tenacia e anche con risultati l'attività nell'ambito dell'offerta formativa della facoltà di agraria dare la parola al Rettore Ruggeri per la presentazione e l'illustrazione del corso di scienze della montagna buongiorno a tutti io cercherò di essere molto veloce e innanzitutto complimenti per essere riusciti a organizzare la presentazione del corso il 3 agosto perché per essere il 3 agosto ci sono tante persone e quindi un cordiale saluto a tutti perché questo significa che comunque c'è attenzione verso questa iniziativa ringraziamento che estendo al presidente Chiarinelli al dottor Mitolo a tutte le istituzioni presenti sia quelle che conosco e quelle che non conosco in particolare saluto al presidente della Camera di Commercio in cui abbiamo avuto modo di relazionarci per tante altre cose al vicepresidente della fondazione nonché al Rettore della Savienza con cui facciamo a livello regionale altre cose insieme nell'ottica di valorizzare al massimo le sinergie tra l'Università del Lazio e poi un ringraziamento particolare lo devo anche a coloro che hanno progettato il corso a partire dal direttore del Dipartimento il quale il corso è incardinato che è il professor Dovidio il professor Schirone che sarà anche futuro delegato della sede di Rieti proprio per rafforzare questo legame con la sede di Rieti poi c'è il professor Piovesan che è un altro professore del corso anche lui da anni ha lavorato in questo corso il professor Ciaschi che nell'ottica interdisciplinaria ringrazio di essere presenti abbiamo coinvolto per le sue competenze specifiche sulla ventagna e infine il professor Marucci così non ho dimenticato nessuno che è stato coordinatore del corso fino a ora quindi insomma anche la presenza di tutti questi colleghi testimonia comunque l'attenzione che noi abbiamo messo su questo corso mi rimangono da dire due cose la prima riguarda il corso di laurea e cioè perché Scienze della Montagna Scienze della Montagna è un'idea che è maturata non recentemente ricordo che già lo scorso anno noi tentavamo di farla poi come tutti sapete ora c'è un processo molto attento e scrupoloso che viene attuato dal Ministero per selezionare i corsi di studio e quindi ci hanno fatto passare un paio d'anni faticosi perché comunque ci hanno chiesto una serie di integrazioni al progetto sia dal punto di vista scientifico sia dal punto di vista molto importante su cui poi torno dopo che è la seconda cosa che vorrei dire di rapporto con gli stakeholder del territorio sia anche sulla sostenibilità del corso perché è chiaro che dovunque noi ci spostiamo vediamo che c'è grande interesse per l'università però l'università in una sede di una città comunque piccola e di una sede che tra l'altro per noi è sede decentrata ma che non lo vuole più essere poi spiegherò meglio questo concetto sta in piedi se è sostenibile per cui poi questo ripeto è un discorso che voglio fare dopo per cui passate tutti questi criteri noi ci abbiamo investito superati tutte queste criticità noi ci abbiamo investito e quest'anno abbiamo avuto una piena approvazione del corso che quindi ora ha un orizzonte triennale per cui questo significa comunque vadano le cose noi per tre anni porteremo avanti Scienze della Montagna che si inquadra e qui ho preso un appunto perché volevo non dire le solite cose al di là poi dell'articolato del corso su cui magari se avete qualche domanda rispondiamo ma c'è per questo il direttore del dipartimento e il professor Schirone la prima cosa è qual è l'obiettivo formativo perché Scienze della Montagna tenete presente che Scienze della Montagna così vada a memoria esiste solo un altro corso in Italia che è fatto dall'Università di Milano ed è adà come è valorita soprattutto l'ambiente alpino immagino quindi questo corso non deve avere come io dico tutta l'Università non deve avere un respiro esclusivamente locale ma essere un corso che cerca di richiamare sul territorio competenze e culture che fanno riferimento alla montagna in particolare perché no alla montagna appenninica la montagna aggiungo una seconda cosa e quindi obiettivo legato a competenze specifiche interdisciplinari perché aggiungo che il passaggio da scienze di fatto scienze forestali noi avevamo un corso di conservazione delle foreste e della natura scienze della montagna non è un passaggio indolore nel senso che con scienze della montagna noi usciamo da un ambito esclusivamente agroforestale che rimane comunque prevalente anche perché il corso è incardinato in quel departamento per toccare un ambito molto più ampio che è quello del territorio della montagna con tutte le sue risorse con i servizi con la manutenzione ambientale con la specializzazione dell'agricoltura l'agricoltura di qualità la capacità d'accoglienza quindi anche il versante turistico quindi è qualcosa di più ampio e per questo per realizzare questo corso io ho molto insistito perché ci fosse una collaborazione interdisciplinare con le discipline della geografia appunto oggi è presente il professor Ciaschi con le discipline economiche per dare proprio un segnale diverso di come si vuole impostare un corso di studio la seconda cosa che dico ancora sul corso di studio è proprio quello di valorizzare un sistema di governo del territorio nel senso valorizzare tutto quello che si può fare per accrescere la qualità della vita in un territorio comunque difficile che anche delle criticità come quello montano quindi le competenze in uscita sono competenze da un lato originali ma dall'altro sono anche competenze che hanno una valenza non solo locale ma noi speriamo l'abbiano anche a livello locale proprio per contribuire a quel percorso di crescita di un territorio a cui un corso di studio come questo deve necessariamente contribuire la seconda cosa che vorrei dire e poi ho finito riguarda il rapporto tra l'università e il territorio allora io lo inquadro in un discorso più ampio di natura politica la nostra sede Viterbo casualmente ma neanche tanto casualmente è una sede direi che in questo momento si trova al centro di un percorso di sviluppo importante che ho ripetito anche a livello regionale in occasione dei vari incontri che noi facciamo perché si colloca su quella trasversale diciamo orizzontale che collega il porto di Civitavecchia a Rieti lungo la trasversale appunto che comprende Civitavecchia Viterbo Terni e Rieti questo non è casuale perché da un lato gli investimenti infrastrutturali che finalmente la regione con questo governo è riuscito a fare e cioè il radoppio della trasversale il completamento della trasversale Viterbo-Civitavecchia che pare dalle promesse siamo passati a cose concrete tanto che è stato fatto anche un pezzo di autostrada finalmente tra Civitavecchia e Tarquinia e ci consente di arrivare da Viterbo a Civitavecchia in meno di un'ora ma anche aggiungo una cosa che ho ripetuto l'altro giorno c'era presente l'assessore Refrigeri perché era un'altra riunione e è stato ringraziato di averlo ricordato anche l'apertura che può sembrare nel nostro mondo globale l'apertura di una galleria però oggi per arrivare da Viterbo a Rieri ci vuole meno di un'ora andando un po' veloci come in genere vado io allora questo significa che collocare tutte queste realtà su un'unica asse al di là del significato politico anche un significato culturale importante perché noi mettiamo insieme territori che per carità sono molto diversi da loro però hanno degli elementi comuni importanti uno dei quali è quello di non essere abbandonati a se stessi in un momento in cui gli assetti istituzionali della nostra regione e più in generale del paese stanno modificando e questo non è un assetto quindi questa non è una considerazione che faccio casualmente perché secondo me noi siamo di fronte a un passaggio strategico importante e cioè oggi il rapporto tra l'università e il territorio secondo me e questa iniziativa vuole essere un segnale verso il territorio perché in un momento di criticità in cui il ministero di fatto ci costringe a chiudere le sedi di centrate in un contesto in cui in particolare le sedi di centrate sono oggetto di grande attenzione e io questo l'ho ribadito anche in una riunione al ministero il fatto di investire in una città comunque piccola in un territorio che comunque soffre come tutti i territori come quello di Rieti secondo me è un segnale importante perché vuole rappresentare l'idea che la cultura dell'innovazione la fabbrica della cultura qual è l'università oggi vuole investire per tenere insieme questi pezzi di territorio naturalmente noi abbiamo anche un obiettivo che è quello di fare dell'università della Tuscia l'università del Lazio settentrionale mettendo insieme territori tra loro molto diversi Civitavecchia dove c'è il porto Rieti che è una realtà completamente diversa oggetto anche di iniziative per cercare anche attraverso altre strutture a quali l'università partecipa per rilanciarla dal punto di vista industriale e per trovare nuove strade per tenere in piedi l'economia Viterbo che sta a metà ma in realtà ha una realtà mista un po' industriale ma soprattutto agricola comunque sono tutte realtà in cui esistono delle eccellenze che non riescono a dispiegare completamente le proprie le proprie qualità le proprie capacità perché probabilmente non esiste ancora quel territorio quella capacità infrastrutturale quella capacità di creare legami connessioni con il mondo perché poi non bisogna dimenticarci tutte queste realtà oggi competono con un mondo globale il nostro laureato di scienza della montagna è un laureato che sicuramente può dare valore al territorio ma è un laureato che deve essere messo con le proprie gambe in grado di camminare nel paese e a livello europeo e noi dobbiamo essere anche capaci con questo corso di attrarre persone a rieti l'idea che noi stiamo attuando su molti dei corsi di studio della nostra università gradualmente cominciando con due o tre e di arrivare in un orizzonte temporale medio a farli tutti in italiano e in inglese proprio per rafforzare questa caratteristica internazionale che deve avere un'università anche piccola come è l'università della Tuscia da questo punto di vista quindi concretamente noi ci aspettiamo che stante questo contesto di criticità che devo dire a un certo punto ha messo un po' anche in dubbio il fatto che noi potessimo continuare efficacemente l'esperienza a rieti però insomma ci sono stati dei segnali che ci fanno capire che questa volontà c'è in un contesto difficile credo che vanno messe un po' in sinergia tutte quelle risorse poche che ci sono per costruire un disegno credibile perché chiaramente questo io non lo nascondo se noi non abbiamo la possibilità di avere risorse poche meno che nel passato mirate sul corso mirate sulle attività anche di ricerca che noi dobbiamo agganciare a quelle di didattiche io credo che stiamo costruendo un buon disegno ma non gli stiamo dando un orizzonte temporale significativo dico anche cosa può fare l'università è quello che io mi impegno a fare e io l'impegno che noi vogliamo prendere a fronte ripeto di un percorso chiaro che ci deve essere anche sulla disponibilità del territorio che guardate non è solo una disponibilità economico finanziaria perché ripeto quella ormai ci stiamo abituando e questo un po' anche devo dire è uno dei pochi forse l'unico beneficio della spending review a fare di più con poche risorse o a fare lo stesso con poche risorse io credo che ci vogliono una disponibilità anche ad aprire le porte ai nostri studenti a realizzare attività in sinergia a fargli fare molte più attività di project work tirocini stace cioè così si crea il legame col territorio così poi noi possiamo fare in modo che i nostri ragazzi più bravi trovino il modo di sviluppare le loro competenze all'interno delle strutture attraverso ci sono tanti strumenti oggi alcuni li mette a disposizione anche la regione penso alle start-up agli spin-off su questi noi dobbiamo investire molto di più perché rappresentano per me il vero futuro e la capacità di un corso di essere efficace su un territorio da parte mia e da parte anche dei colleghi con cui abbiamo condiviso questo progetto nel futuro dovremo fare una cosa molto più semplice dovremo avere poche risorse ma quelle risorse devono essere certe devono essere messe a disposizione per pagare soprattutto reclutamento di persone che stanno qui giovani che si impegnano a lavorare sul territorio e quello poi diventa il modo con cui si realizzano le sinergie con le imprese con gli enti con le istituzioni fare i progetti fare i progetti di ricerca insieme insieme agli enti del territorio perché in quel modo soltanto si riesce a legare l'università alla sede questo credo che sia il disegno che noi dobbiamo perseguire quindi non più solo e soltanto naturalmente continuerà perché poi abbiamo alcuni colleghi che stanno a Viterbo ma anche lì una piccola parte delle risorse la metteremo per incentivarli in modo anche da rendere questa sede una sede viva perché io mi sto rendendo conto e guardate lo stesso discorso l'ho fatto a Città Vecchia che le sedi funzionano se dentro le sedi noi riusciamo a mettere le persone mettiamo i giovani mettiamo l'attività di ricerca ci leghiamo di più al territorio penso per esempio ad alcune attività che potremmo fare con le scuole ne abbiamo ripreso per esempio i contatti con l'istituto agrario progetti di ricerca anche su prodotti si è parlato della lenticchia di altre cose che possono sembrare niente ma che per un territorio invece sono importanti perché poi lo riescono a identificare rispetto al contesto che lo circonda quindi questo vuole essere l'impegno del nostro Ateneo e mi aspetto di fronte a questo impegno perché io credo che noi vogliamo fare quest'ultima prova ultima prova dico perché non ci abbiamo più molto tempo allora questo è un disegno secondo me è un progetto importante su cui l'università ha investito noi ci diamo tre anni per svilupparlo adeguatamente invertendo un po' la rotta rispetto al passato e cioè non vogliamo chiedere vogliamo sapere che c'è un disegno condiviso all'interno del quale credo di aver delineato con chiarezza quello che può fare l'università anche perché a noi ci misurano quindi poi se il corso non va bene verrà un signore del ministero e ci dirà che il corso non va bene quindi dobbiamo fare in modo che questo corso abbia studenti abbia qualità abbia efficacia di rapporti con gli stakeholder che ci vengono misurati anche quelli ecco se questo funziona io credo che poi le risorse vengono in secondo piano nel senso che poi quando le cose vanno così poi nessuno ci chiuderà la porta se chiediamo qualche cosa non soltanto sul territorio ma anche fuori dal territorio pensa al ministero pensa all'Europa io credo che questo sia il disegno che insieme dobbiamo perseguire facendo in modo che questo corso diventi un volano per far partire anche un nuovo modo di pensare l'università che non può essere solo quello che diciamo era una volta diciamo come stanno le cose si apriva la sede centrata ci si mandavano i professori e poi si aspettava di avere qualche risultato io penso che tutte le università ormai non ragionano più in questo modo e anche il discorso che ho sentito prima fa capire che esiste una sidergia diversa con le istituzioni anche perché se non si fa così ve lo dico in modo brutale i corsi ce li chiudono quindi o si fa così o si fa così quindi questa la volontà c'è la passione nostra c'è perché altrimenti non saremmo venuti in 6 il 3 agosto e al di là adesso di rimboccarci le maniche e lavorare perché poi noi dobbiamo lavorare molto di più sulla pubblicità sulla comunicazione organizzare open day con gli studenti cercare di far vedere di più la sede e in futuro pensare anche a qualche cosa per far sì che magari riusciamo a mettere tutti quanti insieme a riede dentro una bella sede perché questo è un altro messaggio che lancio perché stare dentro la città è una cosa importante ed è una cosa diversa perché consente veramente di vivere l'università come parte della città e considerate che l'importanza di questo è talmente rilevante che la CRUI cioè la conferenza di rettoria ha organizzato un convegno a Pavia sul rapporto tra l'università e città proprio perché oggi si rende conto che le università camminano bene sul territorio quando si crea un legame con la città che non è fatto solo di finanziamenti da una parte e di professori che fanno lezioni dall'altra ma è fatto di un legame più profondo che passa attraverso un respiro culturale diverso e anche una capacità attrattiva perché io non lo nascondo le università che hanno la città se se la sanno anzi le città che hanno l'università se se la sanno spendere bene diventa anche un fattore di attrazione sul territorio penso per esempio anche agli studenti stranieri perché no considerate che il nostro piccolo Ateneo nulla rispetto alla Sapienza o altri Ateneo più grandi è riuscito quest'anno per la volta a far iscrivere studenti stranieri e lauree magistrali che guardate è un passo avanti importantissimo siamo riusciti a far venire studenti russi studenti americani studenti cinesi questo significa che piano piano con molta fatica perché dovremmo andare molto più velocemente in questo percorso stiamo riuscendo a fare anche questo ulteriore passo in avanti e credo che che riedi questo corso possa diventare nel tempo almeno in un orizzonte trennale un altro elemento capace di attrarre queste sono le cose che mi sentivo di dire e non so se adesso voi volete dire qualche altra cosa specifica sul corso di studi ma mi sembrava importante anche cogliere l'occasione per fare queste riflessioni perché credo che quando si parte con un percorso bisogna anche avere chiarezza su dove con questo percorso bisogna arrivare ringrazio il rettore Ruggeri che conosciamo da anni per la sua concretezza e soprattutto per il suo modo diretto di esprimere di esprimere il suo pensiero che condivido totalmente raccolgo dagli interventi del rettore e del professor Angeloni ecco intanto con soddisfazione l'attenzione costante e permanente verso il nostro polo universitario e anche qualche segnale che voglio in qualche modo sottolineare su esigenze che non sono soltanto quelle del nuda e cruda finanziamento economico da parte dei soci ma anche quello di un impegno che qualche volta è fuori moneta il discorso della sede che è stato evidenziato da entrambi i presenti è un aspetto su cui il consiglio di amministrazione della nostra sabina università sta lavorando e nel quale vogliamo impegnare gli enti le istituzioni province e comuni in particolare perché la localizzazione nel centro della città diventa un fatto non marginale è un fatto che rende più visibile la presenza degli studenti la rende più efficace nell'ambito di uno sviluppo territoriale e su questo io credo che l'impegno anche degli enti debba essere un pochino più incisivo quindi un po' più di concretezza anche nella calendarizzazione perché quest'anno siamo partiti con alcune ipotesi che purtroppo non possono essere concretizzate nello spazio di due mesi ma che assolutamente nel prossimo anno accademico dovranno essere messe in campo quindi io direi che i presupposti per un rilancio per mantenere una certa attività della sabina università ci sono tutti di questo ovviamente siamo gradi torno a ribadirlo al rettore della sabienza al rettore della tuscia e vorremmo anche che ci fosse un pochino più di condivisione di tutti i soggetti che in qualche modo hanno impegno in quella che è l'offerta formativa di secondo livello nel nostro territorio noi abbiamo anche altre strutture che hanno bisogno di sostegno di essere promosse e sostenute il conservatore musicale lo strampelli il polo scientifico e tecnologico forse è opportuno proprio per la dimensione della nostra città che si crei una rete di condivisione più concreta di questi progetti e di questi percorsi perché non esistono le bad company e le compagnie virtuose qui bisogna che ci sia veramente una utilizzazione delle risorse al massimo livello quindi il poco che c'è deve diventare sufficiente ed adeguato per mantenere questi progetti che c'è